Dottiamo la parola a Salvatore Colantonio, prego, mentre poi Salvatore si prepara, io lo presento. È nato a Napoli, classe 87, appassionato di sistemi operativi di tipo Unix, ha conseguito le certificazioni Oracle e Linux Professional Institute, la famosa LB, ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel settore telecomunicazioni presso Wind, infostrada sul progetto LTE 4G per poi passare in team, dove si è occupato dei protocolli di comunicazione, sim card, rete, creazione di repository, attualmente lavora presso la netcom gruppa S&P, nel settore medio occupandosi di deploy, manutenzione, installazione hardware e software. Oggi ci parlerà di una cosa molto interessante, la creazione di non sempre o bene. Preferisci tutto l'acqua? Qui vi presenterò come creare effettivamente come creare una piattaforma, un sistema server proprio tra le quattro mura domestiche, senza l'utilizzo di nessun'altra tecnologia esterna. o meno, noi abbiamo un computer e da lì cerchiamo di dare tutta un'infrastruttura che ci può essere utile. Al fine di storicizzare documenti, creare i propri progetti, acquisire del video oppure fare delle sessioni sicure o addirittura avere proprio un proprio office in maniera remota. Quindi evitiamo di utilizzare LibroOffice, evitiamo di utilizzare Microsoft Word, Excel, eccetera, ma ci abbiamo tutto remotizzato sul nostro server. Quindi ci svincuoliamo completamente dalla macchina ospitante, che possa essere un Metro, possa essere un Windows, possa essere un Linux. Nessun problema. Quello che noi andiamo a installare, in questo caso l'esempio, è come un sistema operativo che è il CentOS, che è Community Entreplace Operative System. Questo sistema operativo fa parte della community ed è una derivata di RedDart. Precisamente in questo caso è un esempio di RedDart 7. Quindi è una macchina RedDart, però cerca di essere completamente indipendente e quindi è un progetto che è la community e open. Ecco qui. La domanda che si chiede è effettivamente anche lì perché avere un server proprio domestico dalle quattro mura. Principalmente, nel nostro caso, come vedete più avanti, permette proprio anche di centralizzare tutti i documenti, tutti i file, tutte le foto, i film in un unico repository, o meglio, in un unico computer. Ammettiamo che io c'ho una penna USB dove c'è un file, mia madre c'ha un'altra penna dove c'è della musica, mia sorella c'ha dei film su un altro computer, onde evitare di diffondere questi file e quindi decentralizzarli, a questo punto è meglio che l'apertura una struttura dove viene praticamente salvato tutto in un unico server, quindi centralizzarlo. A questo punto, come ho detto proprio prima, c'è la possibilità di svincolarsi proprio da qualsiasi computer, proprio possiamo anche lavorare direttamente sul server, proprio come office, fare un cloud storage, dei calendari. Una cosa importantissima è il backup, nel senso che io devo sempre sapere che prima o poi può succedere qualcosa alla mia macchina e quindi non raggiungerlo più in via remoto oppure, non lo so, è improvviso mancare una corrente, può succedere qualsiasi cosa, quindi non riesco più a riferire il dato e effettivamente anche i dati sensibili perché sono proprio i dati, lo potrei anche perdere. Qui ho fatto un esempio di utilizzare il protocollo Samba, cioè il protocollo SMB, per quanto riguarda la condivisione dei file. In pratica viene installato il protocollo Samba e viene chiuso all'interno del server dove qualsiasi dispositivo, che possa essere un Mac, un Windows o anche lo stesso Linux, tramite questo protocollo può praticamente accedere ai file e solicizzarli e salvarli. Durante cosa serve in realtà per installare Samba? Per installare Samba, come ho detto prima, il server va bene, per installare Samba, eccetera, per installare Samba vi serve installare il protocollo SNB e NMB. Uno serve proprio per server messaggio block, mentre invece l'altro è netbiass name resolution, che praticamente nella rete potete vedere proprio il vostro nome del server e il quale potete dare. Questo nome viene dato effettivamente nella modifica che è stata smb.com, dove posso dare un nome a directory di accessi, posso dire chi può fare qualcosa, chi può solo leggere, chi può solo scrivere, chi può modificarlo o addirittura eliminarlo. L'importante è poi abilitare questi servizi appunto, cioè tra via del sistema, questi servizi devono avere un processo che deve essere tirato su e dopodiché bisogna aprire il firewall o anche le polisi 6 Linux, perché in questo caso 187 c'è tutto un concetto di polisi 6 Linux. O meglio, se Linux non è un antivirus, è semplicemente un controllore e lui vuole sapere effettivamente se quel processo può fare o non fare determinate cose. È un concetto di sicurizzazione. Se invece vogliamo effettivamente prendere i nostri dati e iniziare a puntare sul contenuto web, quindi in questo caso c'è l'esempio di Nextcloud, ma anche Oncloud o altre piattaforme, bisogna effettivamente pensare alla sicurezza e anche alla cosa serve. Principalmente per Nextcloud, proprio nelle secondarie specifiche di Nextcloud, viene richiesto un server Apache, quindi l'installazione di un'auto di Apache per la server, ai SQL oppure a postgres come dp. Ovviamente il dato, a mio parere, deve essere encryptato e deve essere sicurizzato, altrimenti si possono avere negli attacchi. Questo, come avevo detto prima, permette di sincronizzare i vari file tra i vari sistemi operativi, perché visite proprio un clientino, oppure si può fare tramite web, quindi Windows, Mac, Linux, Android e altro, e si può ottenere sempre i file al giorno da partata di mano, e proprio Dropbox, mettiamola così. L'unica cosa è che uno effettivamente ce l'ha in locale e ce l'ha utilizzato proprio sul proprio server e non dipende da altri. Una cosa importante è che a quel punto la dimensione di allocazione è quella che tu hai sul server, quindi puoi avere 20 giga, 1 tera, 20 tera, quando vuoi. I componenti basi, come ho detto prima, e che chiedeva proprio Nextcloud, erano Apache 2 e HP, tutta la configurazione di firewall che ti permette poi di attaccarti ai protocolli, Nextcloud e una scelta di DB che in quel caso ti portano con MySQL o Postgre. E c'era anche un esempio di come si installava su Oracle Database. L'importante è proteggere tutta questa sicurizzazione, perché quando vado sul web ovviamente mi espongo, quindi lo devo sicurizzare con un protocollo HTTPS. Io utilizzo il certo bot che praticamente crea un certificato rilasciato dall'Sencrypt, dove lui da solo, lanciando questo protocollo, lui crea un certificato in base al mio nome di dominio, in quel caso, vediamo più avanti, qua l'Antonio con Linux, che è un certificato e poi si va ad autoinstallare su Apache oppure su Nginx in base a quello che qua si è l'unico installato. Un'altra cosa importante è forzare la connessione HTTP in una HTTPS, in questo caso si chiama HSTS. Questo probabilmente permette all'utente che anche se effettua la connessione HTTP di avere un'area diretta, cioè un contrario di risposta, un'area diretta sempre in HTTPS e quindi la transazione risulta sicura. Questo è un esempio di quando l'unico è configurato sia il protocollo HTTPS e anche l'HST, che praticamente i vari browser si rimane connessione potente, si può fare acquistico carte di credito, la password non viene rilasciata, è difficile da smiffare proprio l'utenza, la password, i vari codici carte, eccetera. Un'altra cosa importantissima è che io ho un grande problema, nel senso che se io condivido tramite Samba un file system e lo rendo condiviso su altre macchine che possano essere Windows, Linux o meno, io corro effettivamente nel rischio che un file infetto, anche se condiviso a livello di cloud, io lo posso girare ad altri. A questo punto Nextcloud propone al suo interno, installando sempre clam out, che è quello minoriavoletto, sempre clam out, un'interazione continua. Però io posso mettere a livello di processo di base, perché a questo punto mi proteggo anche dal lato di Samba, quindi all'interno del file system, posso mettere che questo clam out continuamente va a verificare ogni nuovo file che viene aggiunto. In ogni nuovo file vi verifica che effettivamente può essere un virus, che è una macchina che possa essere Windows, possa essere Mac, oppure anche i road kit, che in questo caso sono, in questo caso parliamo di RK Hunter. Su questo i due devono monitorare e devono stare sempre in continuo aggiornamento. Quindi, per quanto riguarda poi, quando riguarda un aggiornamento, possiamo semplicemente creare uno script che ogni 8 giorni, ogni 8 ore, va a fare l'upload delle nuove definizioni di virus, oppure di RK Hunter, tra noi nuove... effettivamente, come vedete un esempio di script, o meglio, io creavo uno script che pensi di fare una conta, per te, ma ti faccio dire cos'è, questo script semplicemente si collega, o meglio, tramite i comandi che sono i clam out, i fresh clam, eccetera, che sono dei comandi nativi di questi due software, lui va ad aggiornare, va a verificare se effettivamente ci sono nuovi aggiornamenti, fa l'upload e poi in più aggiunga anche chi manda una notifica, se si è trovato nuovi virus e se l'aggiornamento è andato bene o non è andato bene. Ovviamente, come stavo dicendo prima per il problema di Office, io su una piattaforma installato anche HolyOffice, HolyOffice è un cracchetto Office, sempre open, dove ti permette di lavorare in maniera remota tramite web, questo si deploya sul server, quindi significa che io posso creare tranquillamente un file Word, un file open document, qualsiasi tipo di file, lo posso creare da remoto, lo modifico da remoto e lo salvo, in pratica non posso più usare Google Documents oppure altri prodotti Office, diciamo che io mi isolo completamente, faccio tutto sul mio server, io salvo i dati sul mio server, io modifico i miei dati, io modifico le cose come stessi, lo vedo a Dropbox o a Nestlé. Questo è un esempio proprio di come è l'interfaccia grafica di HolyOffice, perché loro permettono di avere delle idee che si possono attaccare a vari siti web, ma anche a Nextcloud, quali possano essere questi tre di forza grafica, quindi ci sono delle forze dove io posso aggiungere e creare dei documenti. Come sto dicendo prima, non dobbiamo dimenticare di salvare le copie proprie dei dati, in questo caso io ho fatto un esempio di come salvare le proprie copie su un hard disk esterno, perché ho scelto io il hard disk esterno, perché siccome può capitare che durante il viaggio, in treno, eccetera, non posso accedere via web al mio server, io ho creato uno schedulizzatore, praticamente tramite la front hub, che all'interno inserisco il mio hard disk esterno, lei automaticamente sincronizza ciò che voglio su questo hard disk. Quando ha finito di fare la sync, in questo caso utilizzo l'elsync, che l'elsync è molto, lui fa una copia delta del file, quindi se modifico un documento di 10 mega, 2 mega, se vado a modificare una virgola, se faccio una copia lui non va a riscrivere i 10 mega, ma in pratica lui vede la differenza tra i due, e riduce la dimensione di copia in colla, quindi fa una sincronizzazione, non fa l'un altro. Quindi vedi c'è proprio il protocollo r-sync, dove ti dice praticamente il source e la destinazione, faccio anche il dump del database, in quanto in questo modo per i miei propri progetti, per il next cloud domino, utilizzo il log triples perché nel frattempo che lui crea il file .sql di backup, se qualcun altro, dalla sessione di next cloud, in pratica, senza salvare il dato, non mi trovo disalineato, quindi io blocco un altrimenti da questo, effetto il backup e poi lo rilascio, mentre invece sql di dump, almeno lo utilizzo per simpression, per ripressione più contro dei propri progetti. Alla fine, ho fatto semplicemente un cut, ma io scrivo su un txt, lo vado a fare anche in altri modi, scrivo su un txt e poi me lo mando via mill, se l'ha legato. Questa qui è la crontab, io per effettuare, come avevo detto prima, il backup settimanale, il backup mensile, l'aggiornamento del sistema, oppure che cosa succede a reboot, perché siete avviati o meno, dovevo utilizzare la crontab. La crontab è la gestione pianificata di Windows, mettiamola così, è proprio così. e effettivamente ogni asterisco, l'ico rispondono a giorno dell'anno, mese, ora, minuto, di cosa deve fare e quale utenza. In questo caso, ad esempio qui, parla dell'utente locale, lo dato, quello che deve fare, ma lì posso dire quale utente può fare cosa, in base a quello script. Quindi posso dire che all'una di notte fai il backup, alle ore tre, nel settimo giorno, fa una sincronizzazione settimanale, quindi fai il zip e si tiene uno storico. Ogni 15 del mese, alle 5 del mattina, mi può fare una scansione, o mi fa un aggiornamento dell'antivirus, invece a reboot, magari se c'è stato un crash o qualcosa, mandiamo una mail, dicendo il motivo del proprio crash. In realtà, sempre su quel server, io ho fatto dei miei piccoli progetti. I miei piccoli progetti, poi sono il sito web, che l'ho fatto effettivamente con Wordpress, quindi nessuna grandissima tecnologia, sono già nel reddito prefatti e caricati. Ho creato un piccolo robottino con un rastro verde, che poi magari faccio vedere più avanti. Monitoring dei terremoti, o meglio vado a prendere dall'istituto, i NGV, gli ultimi terremoti, visualizzati, li stabilizzo, o meglio li metto in un database, dopodiché mi calcolo, in base all'IP che è collegato, l'ISP, eccetera, prendo l'indirizzo IP, vado a calcare la longitudine, e la longitudine, e metto la distanza chilometrica tra il terremoto successo, e da quale macchina, o meglio dal mio provider, l'ISP è collegato. Questo qua è il mio sito web, che ho fatto, come ho detto, è Wordpress, quindi ho utilizzato sempre con Wordpress, con Apache, e SQL, questo qui, è il robot di videosorveglianza, che è un RastroBerry, il suo RastroBerry all'interno di sull'inistro Raspian, e c'è il modulo Wi-Fi 3G, e un motor driver, praticamente tutta la comunicazione, con il sensore del gas, con la videocamera, è stata eseguita in Python, quindi ogni volta che si va a premere, il bottoncino, in questa pagina web, vi segue un comando, un'azione sulle volte, oppure sulla web, la stessa. Per quanto riguarda il video, ci sono, tra virgolette, due soluzioni, ma purtroppo, il RastroBerry non permette, di avere tanta potenza. Il primo, è quello di fare, semplicemente, una rediretta del video, su protagolo HTTP, quindi io lo prendo, e lo visualizzo live, l'altro invece, è storicizzarlo, in un computer remoto, e poi rigirarlo, di nuovo, in un protagolo HTTP, in questo caso, io ho una vera video sorveglianza, proprio, meccanicamente, c'è una macchinina, che mi gira, e mi controlla, effettivamente, quello che succede, e lo succede, a casa, tra le quattro mura domestiche. Questo qui, era, quello che avevo detto prima, il monitor dei terremoti. All'inizio, l'ho fatto con MySQL, e poi ho provato, a utilizzare con HTTP, in quanto lui, oltre a, il database, sono SQL, praticamente, c'è i documenti, eccetera, e lui qui usa, il GeoJSON, prendi poi, tranquillamente, tramite la famosa, cave valore, gli direttamente, su quale posizione, gli direttamente, la posizione, con una singola query, che poi si chiamano, le insert, o le read, darti, direttamente, la posizione, di latino ordine, e longitudine. E in questo caso, prendo, tutti i dati, che mi arrivano, dagli NGP, il valore, dagli ISP, che si trova, all'inizio, della riga, e, all'alto, gli calcolo, la distanza, che lo mette, dal mio terremoto. Questo quello, effettuato, con il pilot, il moto TV, e, ovviamente, la sequestro, c'è la fascia 2, che c'è proprio, il servizio, per la velocità. Per quanto riguarda, invece, lo stafadaggio, a semi in video, io, ho una scheda, di acquisizione, USB, dove, acquisisco, il dado, dall'HDMI, me lo lavoro, effettuano una lavorazione, e me lo salvo in AVI, o meglio, io lo converso, in qualsiasi altro tipo di file, e lo tengo storicizzato. Questo per, il storicizzato, posso, sempre con un FFmpeg, oppure con un VLC, o con un altro programmino, comunque, che permette, di abire tutte le sessioni streaming, rigirarlo, sul protocollo, sempre HTTPS, quindi, visibile tranquillamente, su terminali, televisione, e altro. Perché, in realtà, io non ho fatto, la riga di legge, non sono andato direttamente, tra l'acquisizione, e l'audio, e lo streaming finale. Non l'ho fatto, perché, mentre io salgo, io, in realtà, mentre acquisisco il segnale, posso anche decidere, la qualità della posizione. Quindi, in base alla velocità di rete, perché lì, ovviamente, quando andiamo a giocare, sull'Apple, in base alla velocità di rete, se mi trovo in casa, o non mi trovo in casa, devo capire, che devo settare, devo abbassare la qualità, la qualità proprio video, altrimenti, praticamente, non si ha, si vede i famosi quadrantini, o poi non si vede nulla, che è in base, no? Qua, poi vi faccio vedere. Se riusciamo a vedere, questo è il famoso combottino, qui, questo è il quadro, questo è il dare noto, funziona bene, è un piccolo simbolo, e questo vi permette, in casa, di monitorare, non in genicolo, ma qualsiasi cosa accada, io magari, la mattina lo lascio lì, io da remoto, mi collego a mio sito web, non c'è nessuno a casa, io la stalo in giro per la casa, allora faccio vedere, se c'è qualcosa, può dire, senza avere gas, umidità, ma poi avete un cannellino, un cannellino che mi rispette d'arte, mi sono tutto bene, sicuramente se qualcuno, alle spalle, e, di, no, non per questo, se si scarica, infatti, allora, se scarica, allora, se questo vi ho pensato, infatti, attualmente, ci ho messo, ci ho messo, e si va a caricare, questo è un progetto che voglio fare, o meglio, dovrei iniziare, a implementare, questo poi, il trasformi, perché questo, dovrei fare una mappatura di casa, dovrei fare una mappatura di casa, e gli dovrei dare, effettivamente, poi, un piccolo cono, per fargli fare la famosa, retromarcia, per andare in carica, siccome, di probabilità, sono tutti i prodotti, che poi ho anticipato, che tenevo in casa, per iniziare a fare, che si vale, ad auto ricaricare, a un dotto percentuale, faccio una cosa minimo, lì, inizia a diventare, un attimino dispendiosa, la cosa, però, a me, due o tre giorni, con la batteria così, va, però, tu hai una scopa, di quelle lì, che puliscono la casa, e poi, lo stesso, non c'erano la ricarica, lì da due parti, e due alla parte, infatti, c'è la mia ragazza, che ha detto, perché non compriamo, il motorino, della rete, dell'aspirapot, e poi, c'erano la pulizia, la rete, e va bene, questo è tutto, allora, grazie. applausi, grazie. Grazie.